Proposi un anno fa da questo podio di dichiarare una guerra globale ai trafficanti di esseri umani e sono felice che quell'appello non sia caduto nel vuoto e che in primis a livello G7 si sia trovata l'intesa per dare vita a un coordinamento internazionale per smantellare queste reti di criminali. Ma bisogna fare di più, le Nazioni Unite devono fare di più, perché queste organizzazioni criminali stanno riproponendo sotto altre forme una schiavitù intesa come mercificazione dell'essere umano che questa assemblea in altri tempi ebbe un ruolo fondamentale nel debellare definitivamente. Non si torna indietro. Sconfiggere gli schiavisti del terzo millennio è possibile e possiamo farlo se uniamo le forze con una maggiore cooperazione e con iniziative congiunte tra le nostre forze di polizia, i servizi di intelligence, le autorità giudiziarie adottando la formula follow the money. Una intuizione di due grandi giudici italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che è diventata un modello anche a livello internazionale per contrastare le organizzazioni criminali.